... Amici di Raiuno, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico. Inizio nelle comunicarvi che si registrano code per due chilometri sull'A26, la Genova Gravelona-Tocce, per uno sbandamento di un'auto in prima corsia tra Masone e il Bivio della 10. Per quanto riguarda il resto della viabilità, è fortemente compromessa dalla pioggia, infatti c'è una diramazione da parte della Protezione Civile di un'allerta meteo su Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. In questo momento c'è presenza di pioggia sulla 1 tra Chiusi-Cianciano e Ceprano e anche sulla 24 tra Roma e l'Aquile e anche sulla 14. Monitoriamo in real time, le immagini ci giungono in diretta sulla 1 all'altezza di Barberino, come vedete i flussi veicolari sono vivaci in entrambe le carreggiate, scendiamo in area capitolina, esattamente sulla 1 alla diramazione di Roma a sud, dove abbiamo delle code tra lo svincolo di Torre 9 e il grande raccordo anulare, interessato dalla pioggia e code anche sul grande raccordo anulare tra lo svincolo di Laurentina e Parco dei Medici. Attenzione per chi percorre la 12, la Roma Civitavecchia, perché è allagato lo svincolo di Torre in Pietra. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale l'augurio di una bellissima giornata, come sempre la linea va al TG1 e a 1 mattina e vi invito ad essere prudenti e fate buon viaggio. Arrivederci.